Nel lunedì del postvoto tempo di bilanci, naturalmente partendo dai numeri delle urne tra virgolette ancora calde. A proposito di dati un primo elemento significativo quello dell'affluenza, il trend in netta discesa del dato nazionale, meno 10% rispetto al 2018 in alcune regioni, tra queste il Molise, diventa un vero e proprio tracollo. In Molise hanno votato 117.983 elettori a fronte di 243.884 aventi diritto. In percentuale gli astenuti sfiorano il 45% come a dire che quasi un elettore su due ha disertato le urne. Già partita la ridda di ipotesi per spiegare la voragine dell'astensionismo, la legge elettorale con cui siamo andati alle urne, che non prevede le preferenze, una delle cause che hanno inciso. Mentre scriviamo con le operazioni di scrutinio agli sgoccioli, anche in Molise, in linea col dato nazionale, emerge netta la vittoria del centrodestra. Alla Camera, alla coalizione Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e noi moderati raccoglie 52.785 voti, sfiorando il 43% dei consensi. Il centrosinistra, con PD, Alleanza Verdi-Sinistra, Più Europa e Impegno Civico, si ferma a 28.968 consensi, pari al 23.6%. Importante la performance dei 5 Stelle, che con 29.506 voti, il 24% del totale, sono il primo partito in regione. Addirittura superiore per il centrodestra il risultato del Senato. 51.406 i voti, ovvero 43.1%. Il centrosinistra, in numeri assoluti, si attesta a 28.297 per una percentuale del 23.7%. I ventastellati, che anche in questo ramo del Parlamento, in Molise, sono la prima forza, raccolgono 28.545 voti, replicando la percentuale della Camera. Non sfonda a livello nazionale, e ancora meno in Molise, il terzo polo. Il raggruppamento centrista, Azione Italia Viva, si ferma al 4.8% alla Camera, sostanzialmente replicando la performance anche al Senato. 4.7%, nettamente al di sotto della soglia di sbarramento del 3%, non arrivano al 2%. A sinistra, Unione Popolare con De Magistris. Sul fronte antisistema, Italia sovrana e popolare, e i Mastelliani noi di centro europeisti. Numeri e percentuali questi, perdonateci la lunga sequela, ma era necessaria che, sempre in Molise, consegnano al centrodestra tre dei quattro collegi in palio. Ampleina al Senato, con il patron della Lazio Claudio Lotito, che si impone nel collegio uninominale, davanti all'avvocato isernino Ottavio Balducci del Movimento 5 Stelle, e alla dirigente scolastica Rossella Gianfagna, candidata del centrosinistra. Al centrodestra, anche il seggio sul proporzionale, che va a Costanzo Della Porta, sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, espressione di Fratelli d'Italia. Vittoria della coalizione di Meloni, Salvini e Berlusconi, anche nel collegio uninominale della Camera, con Lorenzo Cesa. Per l'assegnazione del seggio nel proporzionale, sempre alla Camera, bisognerà invece attendere, ancora qualche ora, il tempo di esperire i complicati conteggi dei resti sul nazionale, imposti dal Rosatellum, sistema elettorale che, almeno a parole, tutte le forze dell'arco parlamentare vogliono cambiare. Ma questa è un'altra storia, anzi, un altro voto.